Sapevamo che la partita sarebbe stata decisamente complicata, avevamo un bel progetto per questa regione ma dei temi che abbiamo avuto difficoltà a controvertire nella narrazione, penso la sanità, penso il terremoto, siano stati determinanti per la scelta di chiara discontinuità da parte dei nostri elettori, dei nostri concittadini. Ovvio che oggi saremo nelle condizioni di fare un'opposizione molto seria perché ci sono le competenze e dall'altra parte tanti proclami ma poca visione e quindi noi saremo determinati e fermi. Da dove ripartire? Perché è un po' il PD che ha mostrato dei segni di cedimento. Ripartiamo dal progetto Mangialardi con un centro sinistra unito, da un PLAS che è venuto anche dalla candidatura, ripartiamo da qui e ovviamente mettiamo al centro i percorsi che avevamo già individuato oggi, possiamo dirlo, MES Recovery Fund come prospettiva di futuro e sviluppo di questa regione. Grazie. Grazie.